Vi è mai capitato di imbattervi in una palestra con all'interno un allenatore di livello 33, 34 o 35 e di rimanere stupiti da quanto fosse forte, da quanto fosse già avanti nel gioco, nonostante l'applicazione sia uscita soltanto da un mese in Italia? L'argomento di oggi è come smascherare un cheater da un giocatore onesto. Leggendo qua e là su vari forum, vari siti e quant'altro mi sono imbattuta in un articolo dove diceva che alcuni utenti di Reddit hanno discusso, hanno avuto delle argomentazioni su questa questione e un ragazzo di questi utenti tramite dei semplici calcoli matematici ha constatato che arrivare a determinati livelli ora come ora è praticamente impossibile. Definendo queste persone che sono arrivate a questi livelli degli imbroglioni che utilizzano dei trucchi. In questo video vi andrò praticamente a leggere perché ricordarseli a memoria è praticamente impossibile a parte qualcosina, vi andrò a leggere i calcoli che questo ragazzo ha fatto e poi alla fine del video vi farò un riassunto se non volete stare a scervellarvi con tutti i vari calcoli e sentire tutte queste cose. Quindi se volete subito sapere il riassunto di tutto quanto andate verso la fine del video dove vi farò un riepilogo. A me personalmente è capitato di trovare nella palestra una persona a livello 32 e un'altra persona a livello 34 32 non lo so in realtà se è fattibile ancora come cosa ma già al 34 dal 33 in su comunque è pressoché praticamente infattibile. Questo perché il gioco principalmente è uscito da neanche un mese in Italia perché è uscito il 15 luglio se non ricordo male si è uscito il 15 luglio e uno può dire ok giocava magari già da prima con la pk o con un account della nuova zelanda o cose del genere ma comunque dall'uscita del gioco in generale è impossibile. Quindi ora noi andremo a basare questi calcoli su un giocatore di livello 35. I dati a nostra disposizione per un giocatore di livello 35 sono Punti esperienza necessari per raggiungere il livello 35 ovvero sono 6 milioni Giorni di gioco 30 Punti esperienza per pokemon catturati sono 200 presumendo però che il tiro ogni tiro sia eccellente quindi vi dia il doppio dell'esperienza. Quindi per fare questo dovete proprio essere dei mosse o avere la cover con la cosa per tirare le pokeball tutte dritte e quindi fare sempre eccellente 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 ma è l'unico modo perché è impossibile fare sempre eccellente specialmente con gli ultimi bug che sono spuntati con il tiro delle pokeball e gli effetti la palla curva eccellente nice great tutte queste cose qua insomma è impossibile. Punti esperienza per ogni evoluzione quindi 500 punti esperienza ogni pokemon evoluto più un bonus di 142.000 esperienza per il completamento del pokédex quindi se voi andate a sotterrare i 142.000 punti esperienza dai 6 milioni che dovresti fare per raggiungere il livello 35 dal livello 34 si intende sono esattamente 5.858.000 punti esperienza che ti rimangono da fare dividete questi punti esperienza per 30 giorni sono esattamente 195.267 punti esperienza giornalieri da fare ogni sacro santo giorno ininterrottamente senza mangiare senza bere senza dormire senza nulla cioè devi proprio stare lì fisso sul gioco e fare questi punti esperienza. Ora spiegatemi come cazzo si fa perché io sono curiosissima questo è per fare un calcolo generale di quanto ci vuole al mese oltre a questo calcolo di esperienza fra cattura pokemon e cose del genere giornaliere ovviamente ci si mettono di mezzo ovviamente anche i pokestop e per raggiungere un'esperienza del genere tramite i pokestop bisogna attivarne esattamente 3.905 pokestop al giorno dove li trovate se questi pokestop si devono attivare dopo 5 minuti dall'attivazione? metti caso abitate in un paesino sperduto non avete chissà quanti punti interesse come magari ci sono nei grandi parchi delle grandi città o cose del genere comunque c'è un tot di tempo per riattivare questi pokestop e come fai ad attivarne 3.900 al giorno se io da quando ho iniziato a giocare per dire ne ho attivati sì e no? ve lo dico subito sto controllando io sono livello 23 gioco dal 15 luglio quindi data di uscita del gioco e ho attivato per l'esattezza e qui di pokestop ce ne sono parecchi nonostante io sia stata anche a nerdare in mezzo a dell'esca al parco del valentino in piazza d'armi e quant'altro dal 15 di luglio ne ho attivati 1947 su 2000 che adesso non si vedrà un cavolo giustamente perché se io vi metto la luminosità al massimo perfetto non si vedrà un accidenti eccoli qua 1947 su 2000 spiegatemi come fate come si fa ad attivare più di 3000 pokestop al giorno mistero oppure per fare tutte queste esperienze al giorno bisogna evolvere 391 pokémon al giorno dove cribbio li trovi tutti sti pokémon al giorno ma lo spieghi ma manco i pj spawnano così tanto e ripeto tutto questo per 30 giorni ininterrottamente senza mangiare senza dormire senza andare in bagno senza fare nulla e prendendo anche in considerazione il fatto che nel mese di luglio praticamente quando era uscito il gioco i server avevano molti problemi il gioco si bloccava crashava si andava a rilento tutte queste cose qua che comunque ti impedivano ti facevano perdere tempo per raggiungere questi risultati giornalieri la questione del fortu nuovo ipotizziamo che questo allenatore abbia i soldi da spendere in tutti fortu nuovo che vuole e che quindi gioca ininterrottamente con un fortu nuovo attivo per chi non lo conoscesse il fortu nuovo è uno strumento del gioco che raddoppia ogni tipo di esperienza quindi l'esperienza delle catture l'esperienza presa dai pokestop l'esperienza delle evoluzioni tutto è raddoppiato tutto con 20 euro si arrivano ad acquistare 2500 poké coins quindi di conseguenza riesci a prendere una cinquantina di fortu nuovo ogni fortu nuovo dura 30 minuti quindi fatevi anche un calcolo delle ore ve lo faccio io per avere ogni giorno per 30 giorni attivo sempre un fortu nuovo ne servono 48 al giorno quindi un totale di 1440 fortu nuovo al mese sono circa 576 euro al mese c'è quasi lo stipendio di mia madre la pensione di mio padre cioè rendiamoci conto però accantoniamo un attimo la questione fortu nuovo i suoi costi e quant'altro ma focalizziamoci sulle ore di gioco con il fortu nuovo attivo i ragazzi non lo so come diterò questo video se metterò tutti i calcoli a video se li volete prendere voi a penna probabilmente sarà così perché vorrei far uscire questo video il prima possibile e quindi vi vi lascio l'onore e la bellezza di prendere appunti mentre io vi dico tutti questi vari numeri e se volete farvi un po di calcoli anche voi insomma comunque in ogni caso magari vi lascio qualcosa anche direttamente nella descrizione in modo che non sto lì a far spuntare vari vari calcoli strani e magari far fare meno calcoli a voi in ogni caso se cercate su internet e li trovate comunque passando alle ore di gioco stimiamo che troviamo un pokemon ogni quattro minuti ipotizzando ovviamente che il giocatore si posizioni in un luogo dove ci sono quattro pokestop vicini con esche attive e sulla quale può anche lui attivare esche in continuazione perché appunto solo così poi puoi raggiungere forze certi cioè non puoi raggiungere determinati numeri in questo modo figuriamoci camminando per strada con un aroma attivo o cose del genere fuori discussione tornando ai dati sui moduli esca abbiamo anche qui una durata di 30 minuti come per il fortuno nuovo numero di moduli esca attivati contemporaneamente sono quattro anche qui 48 moduli esca attivati sono quattro contemporaneamente al giorno è una stima di 60 pokemon all'ora quindi sono 15 pokemon per quattro moduli esca in questi 60 pokemon allora ovviamente non contiamo la tempistica di cattura perché ricordiamo tu devi essere proprio bravo a tirare la pokeball e fare sempre eccellente all'inizio del video vi ho detto che servono 900 all'inizio del video vi ho detto che servono per raggiungere la cifra di 195.276 punti esperienza servono esattamente 976 pokemon da catturare al giorno per raggiungere appunto il livello 35 se si dividono i 976 pokemon da catturare al giorno per i 60 pokemon all'ora che si catturano in circa nei quattro pokestop si arriva a pensare che uno debba giocare ininterrottamente quindi senza mangiare senza dormire ricordo sottolineo per 16 ore al giorno senza l'utilizzo del fortunuovo ovviamente se invece abbiamo 576 euro da spendere al mese per il fortunuovo allora in quel caso ci metteremo otto ore in interrotte di gioco quindi la metà ovviamente ricapitolando dopo questa miriade di calcoli che non so se siete riusciti a seguire non so se mi sono seguita io figuriamoci voi se avete preso appunti se vi siete fatti calcoli con la calcolatrice se ve li eravate fatti già per i fatti vostri dopo tutta questa parpadella di roba arriviamo ad un dunque quindi a un ricapitolando parliamo di un allenatore di livello 35 non utilizzatore di fortunuovo per raggiungere la cifra di punti esperienza che servono per raggiungere il livello 35 dal livello 34 ha bisogno di giocare 16 ore al giorno ininterrottamente 4 moduli esca sempre attivi premesso che ad ogni cattura ogni tiro sia sempre eccellente quindi con l'esperienza sempre raddoppiata con la cattura di 976 pokemon al giorno quindi circa 60 pokemon all'ora oppure l'attivazione di 3905 pokestop oppure evoluzione di 391 pokemon passiamo alla seconda categoria quindi allenatore di livello 35 con l'utilizzo di fortunuovo 8 ore di gioco al giorno 4 moduli esca sempre attivi ovviamente 16 fortunuovo utilizzati al giorno quindi 576 euro spesi ogni mese sempre premesso che ogni cattura sia eccellente non fate caso ai rumori che stanno fuori dal balcone e la cattura di 488 pokemon al giorno sempre circa 60 pokemon all'ora oppure l'attivazione di 1953 pokestop al giorno quindi basta fare in realtà diviso 2 il risultato di prima se non erro oppure l'attivazione di 1935 pokestop al giorno oppure l'evoluzione di 196 pokemon al giorno dopo questi numeri possiamo affermare con certezza che un allenatore di pokemon ad un mese effettiva dall'uscita del gioco non può assolutamente raggiungere il livello 35 è umanamente impossibile raggiungere numeri del genere in così poco tempo e se vi siete trovati in una situazione o davanti a una persona che era a questo determinato livello con pokemon quindi fortissimi e quant'altro state certi che vi trovate di fronte a uno che utilizza trucchi che utilizzava i cheat eccetera eccetera pur di vincere poi c'è un giochino dove dovresti girare fare amicizie conosce un sacco di persone nuove e tu ti chiudi 16 ore al giorno 8 se c'hai soldi da spendere per catturare tutti questi pokemon e per attivare tutti questi pokestop stai in un punto dove c'hai 4 pokestop tutti attivi perennemente magari li hai anche in casa non hai più una vita e devi raggiungere a tutti i costi il livello 35 sto iniziando ad avere degli spasmi un pochettino strani ragazzi perché davvero io i cittoni non li ho mai sopportati in nessun gioco in nessuna tipologia non amo cittare non amo queste cose perché penso che rovinino il gioco a chi lo gioca e sinceramente anche agli altri perché madonna santissima mi ritrovo gente improponibile da buttare giù nelle palestre o addirittura vado a buttare giù una palestra non c'è nessuno alle 3 di notte intorno a me mi guardo intorno vedo la palestra diventare della squadra blu dove minchia sei dove sei i fake gps ma questo è un altro discorso ragazzi in teoria chi utilizza determinati cheat cose del genere vengono smascherati come hanno già ho visto dal canale di telegram dal gruppo telegram di pokemon go torino hanno tra virgolette sgamato alcuni con i nick non appropriati quindi è stato chiesto di cambiare il nome loro sono entrati nel gioco e hanno dovuto riscegliere un nuovo nick poiché quello che avevano era inappropriato quindi in teoria si spera che questi imbroglioni col tempo appunto spariscano dalla circolazione in descrizione vi lascio ovviamente assieme a tutti i vari social per seguirmi al di fuori di youtube per non perdervi nulla soprattutto instagram e telegram che sono le cose che utilizzo di più in assoluto e in tempo reale vi lascio anche il link per poter segnalare qualsiasi eventuale comportamento scorretto in gioco che sia un nick con una bestemmia piuttosto che qualsiasi agio tipo di insulto o comunque nick inappropriati e soprattutto per segnalare persone che secondo voi utilizzano determinati cheat determinati bot fake gps soprattutto se avete degli screen potete allegarli in ogni caso lo trovate in descrizione se volete giocare in maniera corretta e far giocare tranquillamente anche altri spero di non avervi annoiato con questo video non mi sono seguita nemmeno io vi chiedo scusa noi ci vediamo ad un prossimo video e devo riuscire a trovare una cazzo di outro per il mio canale non so mai come chiuderli i video non so mai come chiuderli i video